Ciao a tutti ragazzi, sono Gaspzbast e benvenuti nel quarto episodio della StellarCraft. Oggi sono a raccogliere la mia quota quotidiana di gomma dagli alberi di gomma. Dopodiché andiamo nella nostra base operativa e costruiamo qualcosina di base con la gomma. Ed eccoci a casina bella. Adesso devo cuocere nella fornace con questi pezzi di gomma. Userò il legno per non sprecare il carbone. Poi al più presto dovrò fare l'estrattore, per triplicare la produzione di gomma nella mia base. Ed adesso dovrò immediatamente ordinare casa mia, ci sono ospiti. Metto a posto tutti gli oggetti nelle ceste e sono da voi, belli. Firulì firulà ho una casa di qualità. Trallallero trallallà. Grazie. Grazie. Adesso crafteremo una battery box. Molti di voi sicuramente sapranno come si crafta. Necessita di 5 pezzi di legno, una copper che bolla, e 3 batterie. Et voilà. Sure yeah sure ecco a voi la battery box. Grazie. 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 E adesso, addirittura, proveremo un numero mai provato nella storia di sempre. Proveremo, addirittura, a craftare un generatore al quarto episodio di una serie. Bisogna craftare una fornace, 8 refined iron, con i quali facciamo una machine lock, e una batteria. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti e alla prossima!